Movimento, qui! Nemico in discesa nell'area operativa. Movimento, qui! Lancio un'esportente! Lancio un'esportente! Disparalo! Continuiamo a piedi o prendiamo il vino? Disparalo! Puoi vincere! E arrivo! L'esportente and console! ard? Aspetta e missionale! Sura становится rindarti. Acqua! Testate e rindriviare! Ça va anche in. Si, non c'è un fico. Tundric grosso! attacco a grappolo alleato in... gas in arrivo, zona sicura riposizionata e restano solo 5, 15 in lavoro avete del gas in arrivo ti faccio una stordente! non sono ancora a parto mi piace posti lei discesa nella... al lavoro mi spara l'otto mi muovo mi sparano il compagno finito nel Gulag mi hanno preso mi hanno colpito partito si è fatto valere preparati a rientrare in azione Nuova zona sicura e individuata. Recuperate quella granata tattica. Lancia una stordente! Lancia una mola! Corazio individuato! Fucile da scala, fucile di precisione! Ci ha un bel gruzzolo! VAP nemico in volo! VAP perdendo terrella! VAP! Perù facciamo salve! VAP! a 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 Sì! Buon appetito! 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 Mini Ariacca via! Sì! Buon appetito! Ciao Lura! Andiamo in blu? Andiamo a finire il negozio qua! Portepto in vita! È un venditore! È un venditore! ah ma l'esame afora? ma...ma l'è incredibile? sta col microfono resta l'uomo 5, finisci il lavoro non avevano speranza ferma bersagno marcato, via con l'attacco qui Stryker 3, ricevuto, attacco in corso aaaagh mh bia se aaaagh cip aaaagh Mi colpiscono! Mi colpiscono! Mi colpiscono! Alla zona sicura! Via! Mi colpiscono! Mi colpiscono! Mi colpiscono! Attacco in corso! Versaglio neutralizzato! Mi colpiscono! Mi colpiscono! Contatto nemico! Mi colpiscono! E' un nemico! Mi colpiscono! Equipaggiamento individuato! Mi colpiscono! 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 Mettere! Ciao! Ferrari! Agua! Cerno! Bersaglio, qui! UAP, nemico in volo. Bersaglio marcato. Via con l'attacco. Qui, Stranger 3 ricevuto. Attacco in corso. Bersaglio marcato. Via con l'attacco. Qui, Stranger 3 ricevuto. Attenzione, bombardamento di precisione alleati. Chaser! 5, concentrati! Ci resti solo tu. Fatti valenti! Sarete del gas in arrivo. Mi sparano! Ne restavano meno di 5. Mi spara! Mi spara!